hai trasformato questa città è diventato come los angeles non sapevi dove stava pensato non dico davanti a tutti se riuscirò a fare il prossimo film di natale faremo un Natale a Tavestà fai una promessa innanzitutto però la promessa è che siccome l'abbiamo anche pagato fai una promessa a tutti la parola dice questa serata l'ario finirò allora finirà il teatro con questo compenso che finiremo se lo finirai quando vedrai al teatro e quando ciao 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 ciao